SONDAGIO 3,6 meno 0,2, c'è un errore nel nostro cartello, pure meno 0,2 per NCD e UDC al 2,3% e andiamo a vedere però se sì, andiamo all'altro cartello, se innanzitutto gli indecisi che sono in discesa come pure gli astenuti, siamo al 39% oppure comunque una soglia alta volterebbe il 61%. Se si votasse invece con l'aggregazione del centrodestra, che ci sia o no lo vedremo, ma se si votasse insieme per intenderci Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia il PD avrebbe il 31,6% più 0,4, il centrodestra appunto il 31,3 più 0,6, il Movimento 5 Stelle 28,8 più 0,4, Poi a scendere tutti gli altri che prenderebbero meno, una polarizzazione, così andrebbero il, come avete visto, il centrodestra e il PD al ballottaggio. Ma se andassero 5 Stelle e PD vincerebbero i 5 Stelle, 51,3 contro 48,7. Se andassero PD e centrodestra vincerebbe il PD 52,5 contro 47,5. Se andassero Movimento 5 Stelle e centrodestra vincerebbe il Movimento di Grillo 52,5 a 47,5. Una situazione, come vedete, e non solo dei numeri, ancora molto, molto equilibrata. Ma ancora di più il referendum che sta per diventare, per detta stessa di Renzi, una sorta di referendum su di lui e sul suo governo. Il primo dato da vedere è quello dell'affluenza, che è del 47,2%, e poi anche degli indecisi. Cioè, tra quelli che sono stati interpellati per Masia, gli indecisi sono la maggioranza assoluta. Di quelli che non sono indecisi, che quindi sono il 49% del 47%, approverebbero il 69,9, il 70%, quindi più 3,1 rispetto all'ultima volta che l'abbiamo chiesto, e boccerebbe il 30%. Partiamo da questo brevemente, Masia. Quindi è ancora un po' in bilico la situazione, sia per il livello di conoscenza che ha l'elettorato della questione, sia ancora di più forse perché ancora non c'è stata la carica politica del o con me o contro di me, o contro di lui o con lui. Certo, possiamo dire che a livello numerico quantomeno tutti i giochi sono ancora da fare, anche se la tendenza in questo caso parebbe schiacciante a favore dell'approvazione e della riforma. Ma ripeto, se moltiplichiamo quel 50,7% per i milioni di italiani, è chiaro che la partita può anche subire una direzione differente da quella prospettata. Possiamo dirla così, Masia, scusi se la interrompo, che sul merito non c'è dubbio che c'è una maggioranza di italiani favorevoli. Se diventa un referendum pro Renzi e contro Renzi, ovviamente le dinamiche politiche sono un'altra cosa. E certo, poi dovremmo vedere come vanno le amministrative, quale sarà il livello di consenso del PD e del governo e di Renzi in particolare tra 7-8 mesi quando ci sarà il referendum. E i giochi evidentemente potranno cambiare, al di là del merito della riforma. Per il resto non ci sono grandi cambiamenti. I 5 Stelle forse hanno finito di scontare l'usura d'immagine per il fatto di quarto e tutto si è riassestato. Sì, direi che però se andiamo a vedere le liste, soprattutto nell'aggregazione del centro-destra contro il PD e il 5 Stelle, per capire chi va al balottaggio, vediamo che queste tre grandi liste, queste tre forze, prenderebbero quasi il 92% del consenso complessivo, una vera e propria tripolarizzazione con le altre forze che tenderebbero a scomparire. L'NCD con l'UDC, quindi l'area popolare, varrebbe circa il 2%. E' realistico pensare che questa forza in prospettiva dovrà decidere, conquistare, perché rischia di non passare la soglia del 3%. Grazie Masia, ci eserciteremo ancora nelle prossime settimane.